Oggi 4 febbraio la liturgia della parola ci offre come sempre una parola di Dio concreta e profonda ho sempre da dare un consiglio a chi ascolta la parola di Dio della domenica quella cioè di leggere bene e ascoltare la preghiera di colletta la preghiera di colletta di questa domenica dice così o Dio che nel tuo amore di padre ti accosti alla sofferenza di tutti gli uomini e li unisce la Pasqua del tuo figlio rendici puri e forti perché sull'esempio di Cristo impariamo a condividere con i fratelli il mistero del dolore impariamo a condividere con i fratelli il mistero del dolore perché se poi andiamo a riflettere sulla parola di Dio che ascoltiamo in realtà la parola di Dio l'Evangelo vuole proprio insegnarci quello questo cioè condividere imparare a condividere con i fratelli il mistero del dolore ecco perché poi cominciamo con la prima lettura la lettera la parola di Dio tratta dal libro di Giobbe dove tutti quanti conosciamo questa meravigliosa storia di amore tra l'uomo e Dio passiamo alla seconda lettura dove San Paolo incomincia proprio con questo invito annunciare il Vangelo non è per me un vanto perché è una necessità che mi si impone guai a me se non annunciassi il Vangelo che cosa significa annunciare il Vangelo significa proprio condividere con i fratelli il mistero del dolore per poi raggiungere in un apice meraviglioso il Vangelo dove si racconta che a Gesù vengono portati diversi malati e lui guarisce tutti poi si ritira il giorno dopo la mattina presto in preghiera ma gli apostoli lo cercano e dicono signore tutti ti cercano e Gesù cosa risponde è necessario per me predicare anche altrove andiamo altrove perché per me è necessario predicare altrove che significa predicare altrove significa ancora una volta condividere con i fratelli il mistero del dolore è quello che Gesù stesso ha fatto nella sua vita fino alla croce e quello che Gesù stesso attraverso il Vangelo ci insegna perché poi anche in altri episodi Gesù ci insegna a imparare a condividere con i fratelli il mistero del dolore basta ad esempio soffermarci su altri passi del Vangelo dove Gesù ad esempio predica e chiede la preghiera per i buoni operai il Vangelo di Luca dice Gesù sentì compassione e disse la messe è molta gli operai sono pochi pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe ma questo invito è anticipato da un sentimento è Gesù dice l'apostolo Gesù sentì compassione in latino cum patire ossia soffrire con condividere con i fratelli il mistero del dolore allora non ci resta veramente che mettere in atto questa parola oggi come oggi la nostra società in realtà più che essere colpita da malattie si dice che il cancro sia la malattia del secolo in realtà la malattia del secolo è proprio l'indifferenza che il contrario di saper condividere il proprio dolore chiediamo al Signore che la grazia di questa eucaristia che celebriamo nutriti proprio della parola di Dio ci aiuti a imparare a condividere il mistero del dolore insieme ai nostri fratelli è un po la vita di tutti i santi la vita di sant'antonio la vita di padre pio da pietralcina la vita di sant'annibale sappiamo benissimo che questo grande santo messinese cominciò il suo cammino proprio con un incontro con un povero messinese il povero zancone che da questa offerta che chiedeva in realtà invitò padre annibale a saper condividere con lui la sua vita e attraverso questo invito attraverso questo incontro con zancone padre annibale cominciò la sua vita nel quartiere avignone lui ricco marchese andò a condividere il mistero del dolore attraverso i poveri del quartiere avignone di messina da lì nacque e continuò la sua vita di santità e allora come dicevo prima chiediamo veramente che attraverso la grazia di questo caristia anche noi cristiani sappiamo non solo annunciare il vangelo con la parola ma sappiamo veramente condividere il mistero del dolore insieme ai nostri fratelli con una speranza che gesù attraverso la sua grazia ci salva sempre il signore vi benedica manda o signore apostoli santi nella tua chiesa